Il nuovo corso del jarre targato Nirelli è già iniziato. Dopo la firma, 48 ore fa, che ha sancito l'insediamento del nuovo direttivo gialloblu, adesso i nuovi dirigenti si sono messi al lavoro per costruire il nuovo progetto, visto che adesso è necessario passare dalla teoria alla pratica. Ieri Giulio Nirelli ha iniziato a fare il punto della situazione insieme ai compagni di avventura, Curcuruto, Patti e Patanè, ma nei prossimi giorni seguiranno altre riunioni per definire il da farsi. Allenatore, logistica, stadio, sono tutte grane che adesso i quattro ragazzi alla guida del club di Via Olimpia dovranno affrontare per iniziare al meglio questa nuova avventura.